Una delegazione di Emiliano Romagnoli e Veneti ha visitato nei giorni scorsi Bruxelles e il Parlamento Europeo, una giornata anche d'incontro con l'Onorevole Damiano Zoffoli. Tanto benvenuti a Bruxelles nella vostra casa. Questo è il palazzo dell'istituzione del Parlamento Europeo, è la vostra casa, la casa degli europei. Noi siamo tutti cittadini europei, spesso c'è un rapporto sbagliato con l'Europa, un rapporto che io definisco sindacale, contrattuale. L'Europa è un qualche cos'altro da noi con cui noi andiamo a contrattare i bilanci pubblici, quindi l'Europa, gendarme dei conti pubblici, l'Europa che ci obbliga a dei regolamenti, dello zero virgola, l'Europa che ci dice cosa dobbiamo fare. L'Europa siamo noi, qui c'è un pezzo di Europa, mi fa piacere incontrare tanti amici, amministratori, quelli che rappresentano il volto bello dell'Europa, l'Europa delle persone e l'Europa dei territori. Un ufficio molto personalizzato, con passioni e anche obiettivi da raggiungere, il confronto col territorio. Certo, io regolarmente, tutti i lunedì, prendo la mia auto da Cesenatico, arrivo a Bologna all'aeroporto, poi l'aereo e a Bruxelles. Mi sono portato dietro, un po' in questa stanza, le mie passioni, i miei interessi, le foto della mia famiglia, di alcuni politici che sono stati, per me qui davanti c'è la foto, la voglio citare, di Benigno Zaccagnini, fra l'altro nato a Faenza, ha vissuto tanti anni a Ravenna, che per me è stato anche lui, fra l'altro parlamentare europeo, un modello quando ero un ragazzino, un bambino. E quindi voglio in qualche modo segnalare questa necessità di avvicinare, di prima dicevo di dare un volto all'Europa, di avvicinare l'istituzione, che spesso purtroppo è un oggetto misterioso e lontana, con il volto concreto delle persone, con i territori.